Allora ragazzi se mi avete seguito in queste ultime settimane sul mio profilo Instagram, su blog sicuramente avrete visto quella fuga di notizie che riguardano questo attesissimo remake di Metal Gear Solid 3 quindi tutta quella fuga di notizie è trasformata in un video dove vi dirò tutte le anticipazioni e tutte le novità che ci saranno all'interno di questo remake di Metal Gear Solid 3 detta Snake Eater quindi ragazzi già ho detto troppo in questa introduzione, facciamo partire la sigla e ci vediamo subito dopo Sigla! Allora ragazzi partendo proprio dall'inizio iniziamo a parlare di quelli che sono gli sviluppatori team di sviluppatori che sta lavorando dietro a questo remake di Metal Gear Solid 3 detta Snake Eater in collaborazione con la Konami Ma Virtuos, chi è questo team di sviluppatori Virtuos o perlomeno l'azienda che sta dietro a questo remake? Allora l'azienda detta in parole povere ve la spiego brevemente un'azienda che nasce nel 2004, un'azienda di Singapore che non solo si occupa del mondo del cinema ma si occupa anche del mondo dei videogiochi e si è occupata di portare a termine giochi e remake di cui titoli importanti come The Outer Worlds, Final Fantasy, Metal of Honor, Dark Soul, Star Wars, Marvel Avengers, Call of Duty e chi più ne ha più ne mette ragazzi quindi questa Virtuos già ha portato fuori, ha portato alla luce titoli importanti proprio come questi appena citati di cui il nostro amatissimo Metal Gear Solid 3 Snake Eater perché si è scelto di fare il remake proprio di questo capitolo? perché in qualche modo questo capitolo ragazzi, Metal Gear Solid 3 Snake Eater racconta in qualche modo quella che è la vera natura di Solid Snake portata in quel capitolo del tempo quindi si è scelto di fare un remake di questo gioco e all'interno del titolo e come all'interno della copertina compare una parola Delta si, Metal Gear Solid 3 Delta Snake Eater come è riportato nel titolo è riportato anche il simboletto sulla copertina stessa ma cosa vuol dire questo simbolo? cosa vuol dire la parola Delta all'interno del titolo di questo remake? ce lo spiega la stessa Konami e ce lo spiega lo stesso Hideo Kojima vuol dire cambiamento, differenza quindi vuol dire che in questo remake noi andremo a vedere piccoli cambiamenti quindi piccole differenze rispetto al capitolo originale che si è portato anni indietro per quanto riguarda Metal Gear quindi in questo capitolo, in questo remake andremo a vedere quei piccoli cambiamenti che sono stati apportati però ovviamente fatto sta che ce lo dice sempre la stessa Konami e lo stesso Hideo Kojima che nulla va a stravolgere quella che è la struttura stessa del gioco quindi si va a mantenere la stessa identica struttura come si va a mantenere lo stesso CAS di personaggi che è presente all'interno del gioco come rimane invariato anche il doppiaggio stesso del gioco parola per parola quindi ci sono piccoli cambiamenti sì ma alcune cose rimangono invariate si è scelto proprio di lasciarle invariate i cambiamenti riguarderanno per lo più quelli che sono i cambiamenti grafici perché questo remake di Metal Gear ragazzi si avvicina in qualche modo alla grafica che è presente in Metal Gear Solid V The Phantom Pain quindi avremo quell'esperienza di gioco con quella grafica di gioco lì solo che andremo a giocare un gioco del passato e Konami, la Virtuos, Hideo Kojima ci garantiscono un'esperienza di gioco unica nel suo genere se mi avete seguito attentamente io vi ho portato anche un trailer rilasciato dal showcase di PlayStation quindi un trailer che dura poco più di due minuti e in quel trailer proprio a poco più di un minuto si intravede qualche piccolo dettaglio ragazzi un dettaglio che là dove ci sta un pappagallo che si butta in picchiata libera nella foresta proprio in quel frame lì più o meno a un minuto in lontananza si intravede la sagoma del Metal Gear trasportata dagli elicotteri quindi qui ci fa capire il piano di conquista di Volgin delle armi nucleari all'interno del gioco con l'ausilio del Metal Gear quindi ragazzi che dirvi nel trailer si sono capite un pochino di cose quindi il trailer non è che fa capire quello che sarà il gioco stesso ma questo piccolo dettaglio, questo piccolo easter egg che è stato scoperto durante il trailer già ci fa capire alcune cosette allora ragazzi io comunque in questi giorni non mi sono fermato ho cercato per voi fuga di notizie e ho cercato di capire anche quale fosse la reale data d'uscita del gioco ho fatto ricerche su ricerche volevo portarvi questa esclusiva però comunque non ci sono riuscito ma caso contrario se riuscirò ad avere questa esclusiva vi aggiornerò sia sulle pagine Instagram sia sul mio blog ma fatto sta che mi sono imbattuto in una pagina di un sito ovvero di un e-commerce online che lo tiene in preordine con data 31 dicembre 2023 che sia quella la reale data d'uscita del gioco? no, prendiamo questa informazione con le pinze ragazzi perché potrebbe tanto essere la data del gioco effettiva d'uscita? non si sa ma potrebbe far capire più o meno il periodo d'uscita che sia dopo il 31 che sia prima del 31 dicembre non si sa che si arriverà nel 2024 fine 2023 ancora non lo sappiamo però fatto sta che quella data 31 dicembre 2023 ci fa capire più o meno il periodo d'uscita del gioco e proprio rimanendo sull'uscita del gioco ragazzi qui abbiamo anche la versione di lingua europea quindi vuol dire che il gioco sarà tradotto in molte lingue di cui l'italiano ovviamente noi l'italiano lo vedremo solo sottotitolato perché poi comunque va a mantenere i dialoghi originali del gioco vero in lingua straniera però fatto sta che noi avremo tutta la traduzione interamente in italiano tranne che per il parlato però se ci fosse anche parlato italiano ragazzi sarebbe una cosa davvero eccezionale avremo cioè non so come spiegarla sta cosa avremo un'immersione nel gioco molto più profonda molto più accattivante difficilmente se un gioco è interamente italiano anche ne parlato io vado a saltare i filmati per capire un po' quello che potrebbe succedere insomma ragazzi se ciò dovesse accadere che ci sarà anche parlato italiano sarebbe veramente la sbotta questo remake però per adesso accontentiamoci della traduzione sia dei sottotitoli sia del menu italiano sempre su questo sito ragazzi oppure altri siti di preventito online si è riuscito a capire anche un po' il prezzo di lancio di questo capitolo ovvero Metal Gear Solid 3 Delta Snake Eater che costerà attorno ai 40-50 euro che non prevede solo l'uscita di questo capitolo ovviamente che sarà a se stesso il prezzo ma assieme a questo capitolo ragazzi ci sarà anche il rilascio della Master Collection di Metal Gear quindi non avremo solo il capitolo 3 della saga ma ci sarà anche il capitolo 1 e 2 ovvero The Sons of Liberty che esisteva un tempo quindi in una versione un po' più migliorata e rivisitata quindi oltre a questo aspettatevi anche questa Master Collection di Metal Gear che arriva fino al terzo capitolo allora ragazzi beh io ripeto se riesco ad avere questa data di uscita effettiva del gioco io ve la porterò comunque nelle mie pagine di Instagram e su blog intanto ditemi la vostra qua in basso nei commenti cosa ne pensate di questa uscita se ci avete mai giocato se l'ho giocato di nuovo in veste grafica di tutto nuova insomma voi commentate io sarò molto felice di rispondervi e di aprire una discussione qui nei commenti fatto sta che se questo video vi fosse piaciuto lasciate tutti i vostri like al supporto del canale ragazzi iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatta attivate la campanella delle notifiche condividete i video e mi trovate anche su Instagram che ho cela miticosnake e noi ragazzi nel frattempo che esca questo remake di Metal Gear 3 Death Snake Heater si è un po' lungo da pronunciarvelo comunque è stato sottotitolato così io in questo momento sto scaricando Metal Gear Rising si ragazzi perché avrò giocato una demo nel passato ma in questo preciso istante sto scaricando Metal Gear Rising proprio per completare la saga in attesa di questo rilascio e me lo gioco quindi ragazzi io vado edito questo video e subito dopo mi metto a giocare e ci vediamo sempre qui sul mio canale con un prossimo video ciao ciao